Il decreto ufficiale non è ancora stato pubblicato ma venerdì la Commissione Ministeriale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è finalmente espressa sul masterplan dell'aeroporto Canova proposto da Save. I contenuti esatti si conosceranno la settimana prossima ma le indiscrezioni parlano di un sostanziale via libera con alcuni paletti. Uno è il decollo verso Treviso del 21% delle partenze con un tetto massimo di 22.500 voli. Il sindaco di Quinto, streno oppositore all'ampliamento, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il dato positivo è che il 21% dei decolli saranno su Treviso, così è scritto, e quindi limiteranno i movimenti a meno di quello che è successo l'anno scorso perché se noi andiamo a vedere Asse Aeroporti che è l'unico sito ministeriale che dà i numeri dei movimenti per l'anno 2018 ci sono stati 22.911 movimenti quindi noi dal prossimo anno se questo dovrà rispettato e quindi questo sarà il nostro obiettivo dovremmo portare i movimenti a un numero minore di quello che è stato l'anno scorso e circa intorno ai 20.000. In attesa dei numeri ufficiali è anche Treviso che se confermati vedrà circa 2.400 voli l'anno decollare in direzione del capoluogo. Cercheremo di verificare quello che può essere fatto per mitigare al massimo l'impatto sulla città. È chiaro che in questa fase noi non abbiamo una posizione decisoria quindi dovremo assoggettarci quello che è poi la legge prescrive, l'Enac e la Commissione Via appunto che ha deliberato. Accolti positivamente da entrambi i comuni gli stanziamenti per le opere di mitigazione, lo screening epidemiologico come un piano per la valutazione degli effetti in caso di incidenti. Anche questo andrà incontro a quelle che sono le varie richieste che abbiamo fatto e finalmente il Ministero ha messo delle date dei momenti precisi in cui realizzarlo. C'è da dire che noi cercheremo di ottenere da quello che è SAVE il massimo delle compensazioni ambientali in termini viabilistici e in termini strutturali per il Comune di Treviso che sarà comunque protagonista in questa fase.